ciao sono sempre elena di allenazione healthy life coach ma quanto è importante ricreare una relazione più sana più amorevole più potente con noi stessi è fondamentale che tu stia manifestando la tua persona specifica e o voglia migliorare la vostra relazione o semplicemente diventare la miglior versione di te stessa e te stessa ebbene ho raccolto con cura tanti tanti preziosi feedback in questi mesi qui sul canale grazie ai vostri commenti e anche tanti messaggi che sono arrivati su instagram e via mail ho infine ideato creato e ultimato un programma specifico unico e speciale che consta di 28 giorni quindi un intero ciclo lunare e questo darà la svolta d'amore alla tua vita che tanto desideravi perché naturalmente quello che facciamo noi stessi è quello che la nostra realtà ci rifletterà indietro quindi oggi sono orgogliosa di presentarti divina 28 giorni d'amore incondizionato è una master class ed è una master class che è riservata a tutti gli abbonati al mio canale il bottoncino per abbonarti al canale lo trovi qui sotto ogni video e si trova anche nel box info in descrizione sotto ogni video e questo significa che con soli 2 90 al mese con un prezzo veramente ridicolo potrai seguire questo programma che andrà per la prima volta appunto nella sezione abbonati del canale quindi sì mi hai sentita bene e iniziamo tra pochissimo quindi per abbonarti se ancora non l'hai fatto clicca il tastino abbonati qui sotto lo trovi anche nel box info e ancora se non lo sai stesso è nuovo nuovo insomma lo ricordo a tutti sconti e promi esclusivi per gli abbonati quindi tutti gli abbonati a questo canale conservano a tempo indeterminato uno sconto del 10 per cento su tutte le sessioni ci sono varie tipologie di sessioni coaching vero coaching per lavorare con me abbiamo sessioni di 15 20 e 40 minuti naturalmente in una sola sessione possiamo avere una visione insieme del punto in cui ti trovi ora quindi ti raccomando di valutare l'opportunità di fare un percorso se vuoi ottenere veramente risultati le persone che ottengono risultati sono persone che si impegnano e investono in se stesse ok quindi iniziamo questo lunedì con la prima giornata di divina noi ti aspettiamo dall'altra parte e naturalmente avrai accesso anche alla sfida dei 25 giorni per manifestare la tua persona specifica perché all'interno della membership troverai anche tutti i post dei 25 giorni della sfida se ancora l'hai fatto ovviamente hai bisogno di essere iscritto al canale ripeto l'abbonamento viene solo 290 al mese gestito ovviamente da youtube e quindi non vedo l'ora di vederti a bordo e iniziamo lunedì a presto ciao